Nadia Centone, quando è maturata la decisione di smettere, di non giocare più dopo tanti anni che ti hanno visto protagonista nel mondo della pallavolo? Sono quelle decisioni che non nascono per caso, è una decisione che è stata pianificata, preparata. Io già quest'anno quando ho iniziato questa stagione a Cannes sapevo che sarebbe stata l'ultima, quindi l'ho vissuta anche un po' in maniera speciale al 100%, però sapendo che l'ultima partita sarebbe stata l'ultima, avrebbe avuto un'emozione particolare per me, oltre che essere una finale, oltre che essere uno degli obiettivi della stagione. Però sono quelle decisioni che entrano un po' nella testa, piano piano, inizio a dire, pensi a altre cose, sono una donna, inizio ad avere una certa età, con le virgolette del caso, però sono quelle decisioni che piano piano maturano e che siccome stavo bene fisicamente ho detto mi piacerebbe finire essendo integra fisicamente e finendo bene, lasciando un bel livello di gioco, preferendo la gente che dice, caspita Nadi ma perché smetti, piuttosto che, quando è che ti levi dal campo? Quindi insomma è una decisione che è stata maturata da tanti fattori. L'importante è che tu abbia detto campo in fondo, no? Senti, come ci si sente oggi da ex in pratica? Oddio, oggi, oggi è un fine stagione come gli altri, penso che sarà un pochino diverso, la stessa domanda potrebbe essere interessante rifarla verso ottobre, quando ricominceranno i campionati e non sarò più, insomma, tra le ragazze che giocano, che schiacciano, che saltano. Ora, non lo so, per ora mi sento bene, libera, ma come ogni fine campionato, quando finisci una stagione e preparo la stagione prossima, preparo il futuro, insomma, adesso forse non realizzo ancora. Però ottobre so che la volontà è quella di rimanere nel mondo della palla a volo, cioè di rimanerci dentro questo mondo che ti ha dato tanto. È sicuramente la cosa a me più vicina, è probabilmente la cosa per me più facile attualmente, sono giorni un po' frenetici, sto cercando di costruire il mio futuro, sicuramente mi piacerebbe rimanere intorno a quel rettangolo, magari con altre vesti, perché ho preso il diploma in preparazione fisica, quest'inverno appunto ho giocato e anche un po' ho studiato, quindi è una cosa che mi alletta. Adesso, forse per fare un distacco più dolce dalla palla a volo giocata, mi piacerebbe rimanere vicino al campo in questa veste. Allenatore, non lo so, magari un domani, intanto comincio con la preparazione fisica, spero di cominciare con questa via, diciamo, e poi vediamo.